Napoli, infortunio per Lozano e Osimè non è allenato, le ultime da Castelvolturno. Problemi per Spalletti in vista della prossima partita di campionato sabato al Maradona contro l'Atalanta. Nel corso dell'allenamento odierno a Castelvolturno era assente Osimè per un permesso e ha lavorato a parte Lozano per un risentimento. Non era in gruppo neppure Raspadori che continua a svolgere lavoro personalizzato in campo dopo l'infortunio rimediato tre settimane fa. L'ex attaccante del Sassuolo dovrebbe tornare solo dopo la sosta per le nazionali. Probabilmente il 2 aprile contro il Milan. Napoli, le ultime da Castelvolturno in vista dell'Atalanta per il messicano. Invece, condizioni da valutare per sabato quando a fuori grotta arriverà la squadra allenata da Gasperini. Spalletti riflette sulle scelte di formazione ma ora dovrà attendere aggiornamenti su Lozano che nelle ultime partite era sempre stato schierato titolare. In caso di forfea al suo posto pronto politano. Mancherà certamente Mario Rui che sconterà il secondo turno di squalifica e che sarà ancora una volta sostituito da Oliveira. Download per iOS. Clicca qui per scaricare la app del Corriere dello Sport. Download per Android. Clicca qui per scaricare la app del Corriere dello Sport. Download per l'invito. Grazie.